c'è un meccanismo perverso per il quale non so se l'avete notato noi facciamo più le cose per paura che per coraggio perché non cambia alimentazione è perché ho paura di incontrare problemi di nutrienti paura perché vai ancora in macchina è perché ho paura poi di fare tardi al lavoro di non poter prendere i miei figli di non potermi muovere liberamente ancora paura qualcuno dice esigenza la loro esigenza mettete paura avete visto il mascheramento che fa perché non vai via da quel matrimonio tossico perché poi ho paura e come campo e come faccio e poi la famiglia altra paura e perché ancora usi la benzina è perché poi qui e per colì altra paura avete capito come viviamo la nostra vita nella paura non nel coraggio di vivere nella libertà di vivere quante volte facciamo le scelte coraggiosi ma no perché devo ma lasciate quelle stronzate quelle che vanno fatte normalmente nella nostra vita revisione un pochettino per il quale il motivo per il quale faccio queste cose e vedrete che ricaderemo sempre nella paura perché paghi le tasse perché ho paura che poi mi levano casa tanto te l'hanno già levata non è tua perché quando muori è ma sempre là e perché paghi le mutate perché sennò poi ho paura che mi levano e perché viviamo più con la conseguenza quindi con l'effetto che con la causa è davvero pazzesco ma c'è anche difficoltà a fare un video che sia di una certa lunghezza infatti lo metterò a pubblico molto presto lasciate perdere le convenzioni e revisioniamo le nostre idee lo sto facendo e vedendo in continuazione quando è ma perché ancora mangi le uova quello del latte perché perché dopo ho paura di andare in carenza di calcio tanto ci va comunque con quel latte con il liquido bianco con il latte e perché mangi le uova e perché poi la vita e poi le 12 paura 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 e perché controlli i valori nutrizionali cibi che non sono mai quelli ovviamente una stronzata pazzesca è perché poi ho paura di non prendere tutto quello che mi serve tanto non lo prendi comunque se controlli con questa cimella e perché controlli proporzioni è perché poi ho paura di ingrassare smetti mangiare il cibo non di mangiare non hai più problemi vedete cosa ci muove realmente ma l'animale dovrebbe vivere in questo modo vi lascio questo video molto breve con questa veramente riflessione che cos'è che ci muove nella vita il coraggio di fare le scelte per vivere più abbondantemente o la paura che possa succedere qualcosa grazie